Bella a tutti i miei slime qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con una nuova rap review e oggi parliamo di culture 3 dei migos io sono già abbastanza arrabbiato perché proprio tre minuti prima di registrare questo video mi arriva un'email da youtube mi è stato segnalato per copyright la reaction a untouchable di tony f va bene va bene youtube c'ho sto puntino rosso qua che sembro indiano insomma partenza non ottimale tralasciando questi piccoli inconvenienti oggi finalmente posso parlarvi di ciò che penso del quarto album studio dei migos nonché terzo capitolo della saga culture uscito questo 11 giugno conosciamo già abbondantemente i primi due capitoli soprattutto il primo una pietra miliare per la trap a mio avviso nonché una fonte di isperazione enorme per moltissimi rapper new generation il secondo invece è molto più criticato per me comunque un buon album ma sicuramente non all'altezza del primo diciamo che a partire da questo lavoro già qualcuno incominciava a parlare della loro fell off hanno seguito i drop dei loro rispettivi album solisti che in parte hanno confermato che nel sound dei migos cominciava a esserci qualcosa che non convinceva questi erano un po i presupposti prima dell'uscita di culture 3 diciamo che venivano già da qualche album deludente e dovevano rifarsi il nome e vediamo effettivamente come l'album è stato colto dal pubblico alla prima settimana vende 130.000 copie e questo secondo me è un segnale già abbastanza forte e chiaro effettivamente la gente ha perso interesse nella musica dei migos e infatti il disco ha venduto meno dei primi due capitoli col primo vabbè stiamo là giusto mille copie in meno ma il secondo aveva venduto ai tempi 199.000 copie quasi 60.000 copie in più non scordiamoci però che nella stessa settimana è uscito anche all of fame l'album di polo g che oltre a togliere il primo posto della chart probabilmente avrà tolto qualche vendita ora analizziamo un po la tracklist l'album è formato da 19 tracce più 5 di deluxe edition uscita qualche giorno dopo il drop del disco originale per un totale di 24 tracce e 8 fit già vi posso dire in totale onestà che di queste 24 canzoni quelle che effettivamente io riascolterei sono 8 massimo 10 volendo si può fare un discorso un po analogo a quello di slime language 2 ovvero di considerare questo progetto più come una playlist che come un album vero e proprio qualcosa da ascoltarti mentre stai facendo altro come magari una doccia o mentre sei in macchina con gli amici ma se dobbiamo considerarlo un vero e proprio album per me è uscito troppo pesante ora però proseguiamo con calma che tanto avremo modo di parlare di tutto e partiamo dalla prima sezione ovvero i singoli usciti prima del drop del disco e sono need it con young boy never broke again e straightening la prima è stata anche il primo singolo estratto dall'album scusate il gioco di parole e secondo me è anche una delle canzoni migliori entrambi gli stili e parlo chiaramente dei migos e di young boy si fondono alla perfezione dando vita a una vera e propria hit la seconda invece l'ho reattata e vi lascio il link in descrizione ma anche in questo caso davvero poco da dire una traccia molto carina in pieno stile migos che ai tempi mi mise anche abbastanza hype in vista dell'album passiamo invece alle cinque canzoni che più mi sono piaciute non in ordine ma sono vaccine jane why not picasso con future è working a fool ve ne dico una sesta bonus birthday magari qualcuno l'ha già notato magari no ma tra le sei canzoni che più mi sono piaciute cinque sono singoli dei migos ne parleremo meglio più avanti quando arriverà il momento di parlare dei feat ma mi sento già di dire che quasi tutti gli artisti esterni presenti su questo progetto non hanno saputo dare quel qualcosa di più alla traccia beh questo vale per quasi tutti gli artisti esterni sicuramente non per future e io lo sottolineo sempre quando parlo di lui sono un gran fanboy e quando si tratta di lui probabilmente non sono neanche così oggettivo ma credetemi se vi dico che in questo caso la canzone l'ha praticamente fatta lui tra l'altro è prima la sua strofa fa anche il ritornello e piccola curiosità non so se qualcuno di voi ci ha mai fatto caso ma provate a scrivere su youtube future feat migos vi appariranno letteralmente due tre tracce massimo non so se c'è stato un beef non so se semplicemente magari non sono in buoni rapporti ma nelle loro carriere i loro percorsi si sono incrociati pochissime volte se ne sapete qualcosa in più scrivetemi nei commenti perché sono veramente curiosissimo comunque tornando in tema amigos volevo aprire velocemente una piccola parentesi per working full una bellissima outro totalmente azzeccata e visto che siamo già in tema direi di passare alla seconda sezione ovvero le cinque canzoni della deluxe edition tolta quest'ultima è in parte forse anche la prima how we coming secondo me è tutto abbastanza mid canzoni che non fanno altro che allungare la durata dell'album neanche poi appunto così belle piuttosto io personalmente avrei inserito queste due canzoni nell'album originale andandone a togliere qualcun'altra per questo video ve lo dico sinceramente non sono riuscito a fare una top 5 flop ma più che altro perché come ho detto prima 8 10 canzoni sono quelle che mi riascolterei ma tutto il resto nel suo complesso mi è sembrato un po ripetitivo noioso e anche mid quindi non ho scelto cinque canzoni in particolare ma mi volevo soffermare più che altro su un paio di featuring magari super hypati che poi secondo me non sono stati niente di che having our way con drake e antisocial con juice world partiamo dalla prima il giorno in cui uscì l'album questa senza alcun ombre di dubbio fu la canzone che vidi spammata ovunque e vedendo da come ne parlavano io mi aspettavo qualcosa di epico per carità è carina e tuttora quando mi capita di ascoltarla mi piace anche ma se per esempio la paragono a walk it talk it presente in culture 2 beh non mi sembra un quarto della hit che era quella ai tempi quando uscì mentre per quanto riguarda la seconda ditemi quello che volete sarò io maligno ma mi sembra una canzone fatta appositamente per mettere il nome di juice world nell'album hanno preso questi 40 secondi da una canzone scartata di juice world chissà da quale meandro della sua discografia visto che ci sono tantissime canzoni ancora non rilasciate e ci hanno fatto un pezzo sopra anche in questo caso non suona così male ma mi ha dato proprio quest'idea e di conseguenza non sono riuscito a godermela visto che siamo già in tema parliamo un po dei featuring vi dico prima chi salvo che facciamo prima young boy never broke again pop smoke e future il resto sinceramente non mi ha detto assolutamente nulla chi più chi meno ma tutti artisti che secondo me nelle rispettive canzoni non hanno fatto la differenza se dovessi farvi proprio un nome di quello che mi è piaciuto di più vi direi young boy never broke game che insieme a future secondo me è l'unico che si può dire che ha davvero spaccato chiaramente sono solo pareri personale ditemi la vostra nei commenti per quanto riguarda le produzioni non ho molto da dire discrete in pieno stile migos e va benissimo così magari 24b tutti così diventano pesanti ma nel complesso beat per beat non mi sono sembrati così malvagi passiamo forse all'argomento più hot del video chi è stato il migliore di questo album cuevo takeoff offset e poi vi dico la mia valutazione a mio avviso l mvp è stato cuevo sarà molto unpopular ma io tra i tre ho sempre preferito lui nonostante le sue ultime annate un po mediocre è vero a livello di rapping flow metriche quant'altro offset e takeoff li sono superiori e forse neanche di poco ma cuevo compensa in termini di versatilità è l'hit maker del gruppo è colui che riesce a variare un po di più nelle canzoni dando anche in alcuni casi quel sound da hit e senza di lui questo album secondo me sarebbe stato il triplo più pesante per il resto così come è stato con all of fame do a questo progetto un 5 e mezzo un album che nel complesso non mi ha fatto impazzire anzi per certi versi forse mi ha fatto capire che anch'io ho perso un po di interesse nel sound dei migos ma che nonostante questo ha quelle 8 10 canzoni davvero carine sicuramente inferiore al primo capitolo e con culture 2 forse siamo lì per certi versi è meglio per certi no ma questo chiaramente è solo il mio parere voi che voto dareste a culture 3 avete una canzone preferita qual è stato il vostro feat preferito in generale qual è il vostro pensiero sull'album fatemelo sapere qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto chiaramente mi invito a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi altri video altre reaction è tutto quello che carico qua sopra condividete questo video con quanta più gente volete e potete noi ci vediamo ad un prossimo slat